Mi fa un po' strano a dirla tutta e rifare questo video, ovvero fare un nuovo video sul canale perché a parte che era da tanto tempo che non ne facevo più e poi perché fra i 2000 cambiamenti che ha avuto il mio canale ce n'è un altro che questa volta è un cambiamento almeno per me piacevole Prima cosa importante, convivo con mia moglie, quindi lei si è trasferita direttamente a Livorno e quindi adesso stiamo qui insieme 24 ore su 24 Seconda notizia importante, abbiamo trovato lavoro tutti e due, tra l'altro insieme, quindi meglio di così altra cosa importante e terza cosa appunto, avendo trovato sempre collegato alla seconda lavoro tutti e due, mi risulta difficile fare live la sera anche perché o siamo stanchi insomma dopo una giornata di lavoro o arriviamo la sera tardi a casa verso l'8, l'8 e mezza quindi comunque il tempo per fare una live anche rimandandola di un'ora alle 9 non ci sarebbe perché bisognerebbe fare tutte le cose di fretta e furia e poi tra l'altro andare a letto presto e che la mattina già siamo presto per andare a lavorare, non sarebbe possibile Comunque riprendendo un po' il filone di quei giochi di guerra che in passato mi sono piaciuti da morire vale a dire War Thunder, vale a dire World of Warplanes, World of Warships, insomma tutti i giochi della Wargaming perché no, anche magari in futuro World of Tanks, volevo riportarvi dei video di questi giochi sia perché ho voglia di farlo, ho detto sinceramente, quando capitano delle partite decenti come quella che state vedendo non belle, decenti che già nel mio caso smirate qualcosa, ho anche piacere a portarvele e poi anche per tenere un po' in attività il canale allora, c'è da dire che questa è quella che state vedendo, è la closed beta dell'attività navale, delle guerre navali su War Thunder e c'è da dire che è una closed beta a pagamento quindi potete fare richiesta dal sito della Gaijin direttamente per provarla, per testarla potete essere accettati e provarla gratis, ma se la volete provare sicuramente ad essere richiamati dal momento che proprio pagate, attivato l'account e potete giocare direttamente con tutti quanti i tech 3 delle navi navali che tra l'altro sono già abbastanza, per quanto in una closed beta cazzo anche troppo, veramente e pagate direttamente, sono tre pacchetti, tipo uno da 30, uno da 40, uno da 50 insomma, tutti e tre vi garantiscono a parte i navi, accesso alla closed beta ed aquile d'oro che potete usare in tutti i giochi della Gaijin, quindi anche, non le volete spendere per le navi potete benissimo spendere per le aeree o per i carri armati il gioco devo dire che mi ha, come tutte le cose nella vita, colpito da una parte e un po' deluso dall'altra se dovessi dargli un voto complessivo, gli darei un 6,5, che comunque è sempre positivo la parte che mi ha colpito è che noi, abituati da World of Warships, della Wargaming per noi battaglie navali vuol dire caccia torpedinieri, vuol dire incrociatori vuol dire quello che io chiamo le selurine, che possono le destroyer vuol dire sottomarini, vuol dire corazzate, quindi la Yamato oppure altre corazzate come la Iowa, insomma, quelle più famose, la Bismarck e tutte quelle che avete visto poi nel gioco invece qui, e già partite su World of Warships partite che già avete un caccia torpedinieri quindi avete o anche una Light Cruiser una nave, insomma, da guerra cazzuta che porca puttana potentissima su War Thunder no partite con una moto silurante cioè che io mi sono chiesto ma esistevano davvero queste cose, insomma, da guerra mondiale poi sono andata a vedere, cazzo, se esistevano anzi, erano molto più usate quelle a inizio guerra, eh rispetto alle corazzate, le caccia torpedinieri e altre cose per poi passare a navi un pochino più grossi al momento War Thunder, ricordo, una closet beta si va dalle moto siluranti ai caccia torpedinieri e a una sola unica al momento Light Cruiser il gameplay è frenetico molto e qui arriva il punto a sfavore ma non perché sia brutto io personalmente non ho mai adorato una sola cosa dei giochi della Gaijin quindi di War Thunder no, perché per ora quello più importante è quello che racchiude tutti i giochi io una cosa che non ho mai sopportato è il fatto che è troppo punitivo cioè te nel gioco con gli aerei sbagli una manovra ma una manovra nel vero senso della parola quindi nemmeno da dire che hai giocato male tutta la partita allora ti meriti di perdere sbagli a malapena una manovra e il gioco ti va a punire ma in una maniera che perdi la battaglia cioè arriva un colpo sbagliato uno di numero su un'ala te la stacca te hai perso l'aeroplano e la tua battaglia è realistica se va a farsi benedire e stessa cosa sulle navi cioè lo vedete anche da questo video qui che basta veramente un colpo nella stiva delle munizioni o messo nel punto sbagliato che te t'affondano è anche vero che in arcade hai più di una vita in questo caso ne hai tre più punti che fa guadagnare per un quarto respawn se fai gli obiettivi o affondi navi nemiche però comunque è troppo punitivo cioè basta un colpo veramente un colpo un colpo che ti prende il pilota te hai perso la partita cioè cinque minuti a cercare la partita due minuti il caricamento 36 onde a morire cioè è una cosa che è bella eh perché comunque è una cosa bella a livello di simulazione però è una cosa che a me non piace perché preferisco un po' più i giochi della wargaming dove anche se faccio un errore mi colpiscono il cararmato sul culo con un colpo non me l'ammazzano magari al secondo si al terzo al secondo e mezzo però non alla prima cioè mi permette di capire che ho appena fatto un errore e dammi il tempo minimo di reagire magari prima di morire risparo un colpo anch'io allo stronzo ed è così nei giochi della wargaming nei giochi della della gaijin no come vedete basta veramente un colpo sbagliato che tra l'altro vedete dal video sembra sempre che spara i piccioni in cielo ma non è così sembra sempre che spara in aria ma comunque va sicuro perché il replay è venuto un po' male ma il bersaglio come vedete in bassa a destra lo colpisco sempre infatti ho fatto 4 affondamenti 4 kill mi sento di consigliarlo allora il gioco è molto più frenetico se vi piace un gioco più tattico calcolato riflessivo e di squadra no ve lo dico chiaramente andate più su world of warships perché è il gioco che fa per voi se volete un gioco più immediato dove non ci vuole 30 se onda ricarica cannoni 40 minuti a fare una virata con la light cruiser perché le navi sono lente questo sicuramente è un gioco un pochino più veloce immediato però è molto più simulativo di world of warships non mi è piaciuto il sistema di mira troppo sembra quasi una demo sembra quasi che stiano cercando anche loro di capire che il sistema di mira usare però tutto sommato ve l'ho detto le do un 6 e mezzo secondo me ne può valere la pena andate sul sito ufficiale iscrivetevi alla cosiddetta se aspettate magari una settimana o due se non vi chiamano 30 euro compratevelo ne può valere la pena si però dovete essere dei fanatici di queste cose perché ve lo dico il gioco cioè la modalità navi ancora in alto mare comunque dai ve lo passo a voto insomma abbastanza giusto positivo e niente fatemi sapere al solito nei commenti cosa ne pensate fatevela prendere bene buona grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti